Alex Belli, prima di Delia Duran c'era la bellissima Catarina. Chi è l'ex moglie del concorrente del GF VIP 6? Tra i concorrenti della sesta edizione del grande fratello VIP c'è anche Alex Belli, modello e attore con una lunga esperienza nei reality show Dopo Ballando con le stelle, l'isola dei famosi e Temptation Island VIP, ora Alex Belli è uno dei grandi protagonisti del GF VIP 6 Durante la sedicesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, Delia Duran, moglie di Alex Belli, è entrata per avere un chiarimento con Soleil Sorge Che nella casa ha intrecciato un rapporto molto profondo con l'attore. Delia Duran è partita all'attacco e lo scontro con l'influencer è stato durissimo Alex Belli, chi è l'ex moglie Catarina Araniocova? La moglie di Alex Belli l'ha accusata di essere andata oltre a quella che può essere considerata un'amicizia tra uomo e donna dandole anche della gatta morta Delia Duran e Alex Belli sono convolati a nozze a giugno, ma in queste ore l'ex moglie dell'attore è ricomparsa per smentire le nozze tra i due Prima della bella Delia, l'attore era sposato con Catarina Araniocova, che in un messaggio inviato all'influencer Deyanira Marzano ha sganciato la bomba Sono Catarina, la moglie di Alex. La prima e l'unica perché noi non siamo ancora divorziati. Quindi per ora non si potrebbe nemmeno sposare per quanto ne so. Io sono la sua prima moglie con Rito in comune e non siamo ancora divorziati comunque Catarina Araniocova è una modella slovacca e ha sposato Alex Belli nel 2013. Il loro è stato un matrimonio difficile e durante la permanenza dell'attore all'Isola dei Famosi ha avuto un flirt con Cristina Buccino, poi confermato da Alex Belli a Vanity Fair Dopo la confessione due hanno superato il difficile momento, ma dopo due anni è arrivata la separazione, condita da Liti Sociale in televisione Dopo la confessione